Veronica! Mi amano Veronica! Sono qui, ma finisci! Veronica! Com'è? Ma capisci che sono stato da Danilo? Non lo finisci! Non lo finisci! Sono stata riprenda Danilo tutto bene, tutto impostato e poi non l'avevo a scendere! Oh, la berretta dove l'avevo? Lei ha fatto un concorso di regia ma perché regista non le ha detto brava odio no, non le ha detto di schiacciare perché ha detto brava odio lei ovviamente Vai, vedi come sono ma se me l'hai fatta vedere più o Giulia! Ma ora poi dopo vediamo l'hai fatta vedere prima l'hai fatta vedere prima mi raccomando io io qui è Grazie.